Musica Allora, sono il professore Puglera Antonio, sono professore di filosofia e di legge scientifico di decollatura e sono qui in rappresentanza del dirigente scolastico, professore Antonio Collegiuri, che per motivi istituzionali non è potuto essere presente a questo incontro. È stata una mattinata molto interessante in cui il sindaco di Soveria e il professore Mario Collegiuri hanno inaugurato questa bellissima struttura per quanto riguarda proprio la cultura giovanile dedicata a Gerardo Madotta. Sia il sindaco sia il professore Collegiuri hanno fatto una ricostruzione del pensiero e dell'opera, della figura di Gerardo Madotta, che è stato un grande intellettuale, il quale ha dedicato tutta la sua vita a diffondere la cultura del meridione, per il meridione e verso il meridione, ma anche la cultura internazionale, facendo venire a Napoli, ma in tutto quanto la Calabria, in tutto quanto l'Italia, una serie di importantissimi personaggi della cultura del Novecento. è morto di recente, era stato già nominato cittadino onorevole di Soveria e Mannelli, doveva venire qua tra qualche giorno invitato dal professore Collegiuri con il quale era amico, non è potuto venire. Sicuramente è stata una giornata estremamente interessante, soprattutto anche per la presenza dei ragazzi del liceo e dell'Istituto Professionale per la Agricoltura, i quali penso abbiano apprezzato l'importanza delle cose dette e anche l'importanza di queste figure per quanto riguarda proprio il sul della cultura meridionale. Grazie a tutti.